Registrazione UE di oggi, la scelta di Sara, il rifiuto clamoroso in studio Uomini e donne, nuova registrazione oggi 29 maggio, l'attesa scelta di Sara. E tutto pronto per la nuova registrazione di Uomini e donne Trono Classico di oggi 29 maggio. . Le anticipazioni ufficiali rivelano che Maria De Filippi, gli opinionisti e l'ultima tronista rimasta in carica, Sara Affifella, questo pomeriggio torneranno di nuovo nello studio del dating show Mediaset per registrare quella che sarà l'ultima puntata di questa edizione del Trono Classico che vedremo in onda questa settimana stessa in televisione. . . Oggi l'attesa ultima registrazione della scelta di Sara a Uomini e donne. . Una registrazione attesissima dal pubblico perché sarà quella in cui la bella Sara Affifella porterà a termine il suo percorso, facendo finalmente la scelta finale che il pubblico da casa sta attendendo con trepidazione. . 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